oggi l'ottava di coppa italia con il sassuolo parleremo poi di primavera e milan futuro della rinnovo di rinders della nuova maglia celebrativa 125 anni re milan e dello scandalo che c'è in federazione e nell'aia di questo parleremo tutto dopo la sigla ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del calcio secondo giovanni vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di iscrivervi al canale completamente gratuito basta cliccare su tasto iscriviti attivare la campanella in modo tale da essere aggiornati tutto ciò che riguarda il milan in tempo reale con le volte anche in anteprima attraverso le nostre rubriche giornaliere attraverso le nostre live martedì giovedì sera e anche attraverso i nostri pre post partita di tutte le partite del mina ricordo stasera ci sarà solamente post partita attorno alle 22 50 23 per commentare appunto mina sassuolo potete interagire con noi tramite la chat durante la trasmissione del video e fino a video lasciando un vostro pensiero un vostro commento appunto nella sezione commenti potete aiutare il canale tramite donazioni abbonamenti cinque tipologie abbonamenti a partire 99 centesimi al mese quindi nemmeno un caffè e poi se volete sotto la descrizione del video c'è un link per firmare una petizione per salvaguardare la casa dove ha vissuto kilping sia a livello diciamo di nascita che a livello dei primi anni della sua vita fino all'adolescenza che è stato abbandono da circa quattro anni e che quindi potrebbe essere presa da mina in affitto acquistata direttamente e fare un museo di kilping oppure fare una insieme al comune di notting appunto questo museo oppure fare un punto milan point anche a notting cliccate sopra cliccate su firma aspettate che vi mandino una mail di conferma e poi cliccate di nuovamente per confermare e basta non fate donazioni mi raccomando in questo caso qua allora iniziamo con le notizie di oggi beh iniziamo innanzitutto da milan sassuolo importante perché comunque la coppa italia può essere un obiettivo di questa stagione sassuolo che è sempre stata una bestia nera per il milan sempre sempre creato problemi praticamente mod berardi e quindi è una partita sicuramente da prendere con le molle con concentrazione il milan farà un ampio turnovere visto che venerdì giocherà a bergamo con l'atalante sarà una partita anche questa fondamentale per il cammino del milan in campionato diciamo che dovrebbe essere praticamente ecco minan dovrebbe scambiare per tutta la difesa perché giocherà sportiello giocheranno giocherà calabria giocherà al cento pavlovice tomori giocherà a sinistra terracciano al centrocampo fu fanai randeles rimarranno con l'off tucic che si presume e poi davanti sarà ciuquezi abram e leao quindi un misto tra conferme no speriamo che il centrocampo riesca a garantire una specie di protezione alla difesa perché ci potrebbero essere dei problemi in difesa visto che sassuolo comunque è primo in serie b sta andando molto bene e diciamo che per la serie b è un po un lusso anche sassuolo sembra delle discrizioni che sull'allenatore grosso faccia delle cambiamenti delle rotazioni infatti si parla appunto di tosvet esempio berardi e pierini saranno in panchina diciamo che saranno circa 4 o 5 quelli formazione base il resto sarà fatto un cambio la formazione con 4 3 3 sassuolo sarebbe satalino tojan odental muaremovic paz al centrocampo gli annoni obiang caligara davanti volpato mulettieri e laurentia questo dovrebbe essere i biglietti diciamo sono quantomeno sono state aperte le prime due anelli sono praticamente quasi sorriti quindi c'è una buona risposta del pubblico terzanello sarà chiuso logicamente ma già avere penso un 40 mila persone per vedere mila sassuolo ribadisco da un senso comunque di di affetto da parte dei tifosi al milan e a proposito affetto ai tifosi il 5 giovedì sarà svelata la maglia del 125esimo anno della nascita del milan l'abbiamo già visto in alcune volte in diciamo in anteprima diciamo che piace a tutti perché richiama proprio la maglia del milan del vecchio dei vecchi tempi con le strisce strette con lo scudetto di milano sulla sul petto dove c'è scritto dove c'era scritto milan cricket football club c'è un colletto anche questo vintage quindi molto 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 carina è già in prevendita quindi chi la vuole può già ordinarla sul shop del milan ed è già visibile al negozio di viale dante a milan ponti viale dante è già già esposta quindi se non vuole può andare a vedere è prevista anche una versione in nero in total black di cui per ora ancora non si sa niente però probabilmente sarà messa in vendita successivamente e dunque io volevo fare adesso anche una piccola discorso di relativo a doardo bove logicamente è successo mentre io stavo ero a milano stranamente successo a firenze ero a milano perché niente compini con di famiglia e dunque sto sentendo di che si parla di crisi epilettica che può ritornare a giocare eccetera eccetera io andrei molto copia di home in questo caso qua perché crisi epilettica non abbiamo visto almeno dalle immagini che ci sono proprio una crisi epilettica esistente si parla invece di un infarto derivante da una situazione problematica a livello del cuore vi leggo un pochino ecco quello che c'è scritto oggi sulla gazzetta che secondo me fa chiarezza abbastanza su quello che è la situazione attualmente del ragazzo allora diciamo che è successo così dopo aver perso conoscenze in campo i giocatori sono trasportati di corsa a careggio al piedale di careggio di firenze prima certamente i cardiologici e neurologici hanno scuso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale del sistema cardiorespiratorio dopo aver passato una notte tranquilla ieri mattina è stato stubato e stubato e ha risposto tranquillamente al ritmo dei medici la prima di anni si parla di aritmia per torsione di punta una forma di tachicardia ventricolare che si sviluppa in soggetti affetti da un particolare disturbo dell'attività elettrica del cuore con così detto intervallo qt lungo per quello ci è un debattito cardiaco quello che appare chiaro arrivati a questo punto che dal resto cardiaco di uova e sia stato provocato una ritmia ventricolare maligna maligna vuol dire non che maligna tipo tumore ma vuol dire che è una ritmia che porta il cuore a fermarsi e per cui ci può essere lo svenimento e l'assenza di polso il defibrillatore non è stato usato in campo ma sembra sia stato usato nella ambulanza le cause e dice diciamo malgrado le tantissime controlli che vengono fatti proprio controlli di routine certi episodi sono conseguenze patologie più subdole che si evidenziano solo con controlli non di routine ma ma mirati che generalmente vengono fatti perché se non vengono dati sintomi diventa difficile poter fare tutto e si parla di cardiomiopatia ritmogene o ipetrofica anomalie congenite dei coronari e patologie infiammatorie ci parlava appunto di potassio basso di potassio basso può portare a questo punto qt lungo come si diceva prima però ecco ho perso un pochino il filo qua ma molto raramente da solo ha conseguenze così gravi quindi si pensa al potassio basso ma collegato a un problema a livello punto cardiaco per quanto riguarda bobe potrebbe tornare a giocare ecco potrebbe potrebbe ritornare a giocare solamente se fosse il problema limitato al potassio basso oppure a patologie che possono guarire tipo la mia miocardite oppure una anomalia congenita che potrebbe essere operata però c'è adesso secondo l'articolo scritto da z3 lo sport sono più le possibilità purtroppo che questa che questo ritorno nel campo di calcio sia molto 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 difficile veniamo adesso a rainders rainders che è sempre più vicino all'accordo con il mina di nuovo del contratto si parla di circa 3 milioni e mezzo più bonus quindi quasi praticamente raddoppiato il suo contratto e rainders molto felice di stare a milano contentissimo di avere avuto una proposta di rinnovo dopo appena un anno di presenza sua in squadra e sinceramente quest'anno sta facendo vedere ottime cose che si erano gente viste lo scorso anno quest'anno probabilmente con la presenza di fufana con anche di musa eccetera riesce più a dedicarsi la fase ideale per lui quindi la fase propositiva e soprattutto riesce a segnare molto di più anno scorso mi ricordate i problemi era anche proprio del suo scarsezza di scarsità di conclusioni diciamo idonee verso la specchia della porta tante volte da terrori veramente pacchiani invece quest'anno è molto parteci molto più sicuro di sé probabilmente quindi in arco di un mese ci dovrebbe essere rinnovo sia di rainders che probabilmente quella di megnano passiamo poi al discorso primavera minan futuro primavera minan futuro diciamo che è una situazione un po diversa primavera diciamo che è una squadra che gioca un anno sotto età e quindi ci stanno di questi alti e bassi a presso a lecce presso con la roma ieri 3 a 0 in casa quindi è una squadra che deve trovare una propria maturità ma soprattutto è una squadra che un anno in meno a questa età fa differenza minan futuro invece ha perso contro la ternana 3 a 0 bonera ha continuato continuato ad avere la fiducia di brevimovic e chirovski però situazione adesso è penultima da sola e la zona diciamo più tranquilla si sta allontanando e io sinceramente non so ecco la vedo molto complicata e soprattutto se questo si crescesse con la retrocessione sarebbe veramente un disastro perché i 12 milioni investiti dal minan andrebbero in fumo perché non si può far maturare i giovani per la prima squadra in serie d quindi ecco speriamo di che la squadra si riprenda purtroppo il fatto che camarda in prima squadra liberali viene fatto giocare invece che in minan futuro in primavera gli acquisti fatti diciamo nel periodo della campagna acquisti di agosto sinceramente non sono stati così performanti boh speriamo bene speriamo bene non mi entusiasma sinceramente buonera come come allenatore vedremo insomma ecco io però per far giocare battesaghi centrali non lo vedo ecco come come soluzione anche il gioco sinceramente lascia un po molto a desiderare infine veniamo a situazione aia e situazione federazione italiana gioco calcio pgc ho fatto proprio oggi sull'altro canale su accrezione 360 un ampio video sulla situazione adesso qui semplicemente cercherò di stringere un pochino il tutto diciamo che la situazione mi sembra veramente assurda abbiamo un aia dove rocchi designatore arbitro orsato miglior arbitro italiano e prossimo a entrare in dirigenza più 50 arbitri sono stati accusati di evasione fiscale per non aver dichiarato compense ricevute all'estero da 2018 2022 c'è stato mandato delle cartelle esattoriali a parte dell'agenzia delle entrate ai vari arbitri la maggior parte ha diciamo ha già cercato di trovare una soluzione che ci ha versato la parte che doveva in maniera attenuata in quanto c'è stato punto un confronto con l'agenzia delle entrate per cercare una soluzione questo punto di vista fiscale dal punto di vista però sportivo ci potrebbe essere la avere diciamo non rispettato l'articolo 4 del codice sportivo di lealtà probità eccetera quello che poi viene viene anche appunto fatto diciamo come capo d'accusa a inter e mina più quanto riguarda il scorso ultras quindi questo potrebbe portare diciamo a una c'è un processo sportivo per virgolette delle sanzioni che vada un'ammenda a una inibizione di arbitrare per un certo periodo di tempo se a questo si insomma il fatto che il procuratore donofrio degli arbitri fu un anno e poco più fa messo in carcere per traffico di droga potete capire che abbiamo un disegnatore che ha evaso fiscalmente il migliore arbitro che ha evaso altrettanto il procuratore il traffico di droga non so cosa si sta aspettando a commissariare l'aia per quanto riguarda fgc anche gravina probabilmente dal processo per il famoso discorso diciamo della compravendita di questi libri antichi che diciamo autoriciclaggio benedetto da torna 140 mila euro mi sembra fosse dato questa caparra anche qui cosa strana c'è allora abbiamo igs e un'altra ditta c'è un'altra società che sono diciamo nemiche diciamo come a livello diciamo di lavoro perché sono entrambe consulenti fanno due abiti allo stesso campo e questa igs prende proprio alla fine diciamo della dell'incarico di gravina prende appunto la consulenza per quanto riguarda alla serie c e da una diciamo da praticamente alla sua rivale una consulenza di 200 milioni di euro per 200 mila euro scusate per la misurazione dei campi quando lei stessa poteva farlo perché avendoci strumenti tecnologici superiori alla restante e questa ecco mi sembra strano anche perché poi quest'altra società che adesso non mi ricordo il nome ma se andate a sentire il mio video di oggi di soccer zone lo troverete è la stessa che poi va a fare attraverso intermediario un'offerta di acquisto per quanto riguarda la l'acquisto punto di questi libri antichi di gravina della cifra similare che poi rimane gravina perché non si chiude diciamo la vendita quindi su questi 200 mila 140 mila euro che girano fanno questo giro igs quest'altra società che va a comprare i libri di gravina che però al stesso tempo non vengano venduti quindi rimanga gravina questo acconto di 140 mila euro molto molto strano e poi si parla anche di una casa comprata da gravina che non sembra proprio chiarissima situazione quindi anche questa sarà probabilmente un tribunale che giudicherà e vedremo però presidente federazione italiano gioco calcio che va in tribunale per un autoriciclaggio situazione non mi sembra dei più belli più trasparenti vedremo nei prossimi mesi a questo punto cosa succederà intanto stasera ricordatevi alle 22 50 23 con noi con il post partita di milan sassuolo ciao a tutti buona giornata e forza mila da giovanni